Il faccendiare Flavio Carboni è indagato dalla Procura di Arezzo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. È quanto si apprende dagli ambienti vicini a Palazzo di Giustizia dopo le perquisizioni compiute dalla Guardia di Finanza di Arezzo in varie regioni italiane. Con lui risulterebbe indagato anche l'imprenditore Valeriano Mureddu, da tempo considerato vicino a Carboni, e il cui nome era immerso anche nel corso dell'inchiesta su Banca Etruria. Secondo quanto appreso, Carboni sarebbe al centro di un'organizzazione che riciclava denaro prevalentemente provento di evasione fiscale per l'acquisizione di grosse aziende in crisi. Avrebbero creato fondi neri con fatture false per poi utilizzarli per acquisire o cercare di impossessarsi di grandi aziende in crisi, società che operano in settori strategici dell'economia nazionale. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Arezzo nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura retina su una presunta associazione dedica al riciclaggio di proventi derivanti dall'evasione fiscale tramite appunto l'acquisizione di società in difficoltà economiche. 20 soggetti coinvolti nell'operazione delle fiamme gialle, i quali, come spiega una nota della stessa Guardia di Finanza, appropriandosi del nero creato grazie all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e approfittando della difficile congiuntura economica, hanno poi impiegato tali provviste nell'acquisizione, anche tentata, di grandi aziende che attraversavano un periodo di crisi finanziaria e operano in settori strategici dell'economia nazionale. Le indagini hanno permesso di disvelare un articolato meccanismo di intrecci societari che coinvolgevano aziende rivelatesi cartiere, ossia del tutto inoperanti, che venivano utilizzate per drenare ingenti somme di denaro da dirottare sui conti correnti personali e dei familiari dei participi al sodalizio, alla cui organizzazione e funzionamento hanno contribuito vari consulenti e professionisti permettendo di condurre e mantenere un elevato tenore di vita.